Beata Vergine apparirà tra quindici giorni nel Sud Italia. Rivelerà il primo segreto di Meggiugorie. Cari fratelli e sorelle, oggi vi porto un messaggio di estrema gravità e urgenza. Attraverso la Veggente italiana, la Santissima Vergine Maria mi ha rivelato una profezia mai ascoltata prima, destinata a scuotere le coscienze di tutti noi. Preparatevi a ciò che sto per dirvi. Entro breve, la Santa Vergine apparirà in un luogo del Sud Italia, un evento straordinario che segnerà l'inizio di un'era di rivelazioni e cambiamenti profondi. Questa apparizione sarà il segnale dell'inizio dell'illuminazione della coscienza, un fenomeno che toccherà ogni anima, portando a una consapevolezza nuova e sconvolgente delle proprie azioni e del proprio cammino spirituale. Ma non è tutto. Con questa apparizione, verrà rivelato il primo dei segreti di Meggiugorie, un segreto che ha il potenziale di cambiare il corso della storia umana. Questo segreto porterà con sé rivelazioni terribili e sconvolgenti che scuoteranno la fede di molti e metteranno alla prova l'umanità come mai prima d'ora. Sarà un tempo di grande tribolazione, in cui le verità nascoste emergeranno, mettendo in luce la corruzione e le false ideologie che hanno avvelenato le anime. Molti saranno costretti a confrontarsi con i propri peccati e a cercare la redenzione attraverso una fede rinnovata e una sincera devozione. La Santissima Vergine Maria ci esorta a prepararci spiritualmente per questo momento cruciale. La preghiera, la penitenza e l'adorazione saranno le nostre armi più potenti contro le forze oscure che tenteranno di distrarci e allontanarci dalla verità. Rimanete vigili e forti nella fede, perché la rivelazione è prossima e il mondo non sarà mai più lo stesso. Grazie a tutti.